Cominciano tutti a capire che il Carnevale è una cosa veramente seria, è un'azienda importante del territorio, il Mibac ce lo ha riconosciuto e quindi rispetto a questo dobbiamo essere molto professionali, molto precisi su tutte le rendicontazioni e quindi col Comune è stata stilata una convenzione importantissima storica che impegna entrambe le parti alla realizzazione e al finanziamento del Carnevale a prescindere da chi ci sia in Carnevalesca e in Comune e portare avanti questa grande tradizione che anche il Mibac, anche i Carnevali storici ci riconoscono. Ci sono anche termini tecnici e particolarità, passaggi anche di carattere burocratico che vincolano molto le due parti. Sì assolutamente, questa convenzione che è stata firmata vincola il Comune a dare un importante contributo alla manifestazione, d'altro canto noi vincola a dover essere molto corretti appunto come dicevo prima nella rendicontazione, dovremo chiedere più preventivi, cioè saremo ovviamente più vincolati al massimo della trasparenza anche se noi come sapete in questi due anni abbiamo puntato a questo, però ecco adesso siamo vincolati proprio dal Mibac. Ecco, aspetto più pratico quello della prossima edizione, in forse un carro si è trovata la soluzione per questi carri di prima categoria? Sì sì, la soluzione si è trovata grazie alla disponibilità anche delle altre due associazioni, adesso stiamo definendo gli ultimi particolari e comunque il carro si farà, sarà un grande carro dedicato al Carnevale di Fano e alla promozione del Carnevale di Fano. Oltretutto con questo carro ricorderemo i gemellaggi, i patti d'amicizia che abbiamo in atto con il Carnevale dell'Havana e da quest'anno anche col Carnevale di Veracruz che ricordo ci dedica un carro, un carro dedicato a Fano e al Carnevale di Fano in Messico, quindi questo è un grande traguardo, una grande promozione per noi.